La ZTL a Roma non riesce a mettere d'accordo davvero nessuno, nemmeno in Campidoglio. E' proprio così l'ennesimo capitolo è solo di pochi giorni fa, quando la sindaca Raggi ha deciso di riattivare i varchi d'accesso della zona traffico limitato nel cuore della capitale, ponendo così fine al provvedimento iniziale volto a favorire la mobilità dei romani con l'inizio della prima fase del lockdown legata alla pandemia da Covid-19, visto che il traffico che attanagliava un tempo le strade di Roma era semplicemente un lontano ricordo. Ad insorgere all'epoca furono i tassisti, tra i pochi oltre ai residenti, a poter condurre turisti e clienti nelle vie più irraggiungibili del tessuto stradale cittadino. Ora, dopo essere stati favoriti da una rinnovata ricezione della clientela, sono i commercianti a lamentarsi. Perché riattivarle e non dare una mano all'economia cittadina ora che siamo diventati per lo più zona arancione? È giusto anche fare una specifica, nel cuore della ZTL i parcheggi sono pochi o in molte zone assenti aumentare questo traffico di vetture porta ad un congestionamento di alcuni quadranti del centro in grado solo di produrre disagi, divieti di sosta e multe salatissime per la gioia delle casse del comune di Roma. Ma trovare un punto d'incontro sul tema ZTL appare davvero una missione impossibile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!